Buonasera dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo a Montemarano in occasione di Tarantella Forafica con Roberto D'Agnese che ci spiegherà un po' la serata, come si è svolta, la tre giorni piuttosto. È andata alla grande la seconda edizione di Tarantella Forafica, tantissimi spettatori, tantissimi turisti, apprezzamento e complimenti per gli allestimenti, per gli spettacoli. Direi che è andata bene anche per l'aspetto solidale della manifestazione. Ora sono due i prossimi obiettivi che sono il Carnevale, il Princeps Irpino, il Febbraio e soprattutto il Fuss Event. Il Fuss Event, questa rete di eventi con la quale cercheremo di distribuire tutti gli eventi irpini collegati a un unico comune denominatore che è il Fuss Event. E noi ringraziamo Roberto D'Agnese, il gruppo degli artisti irpini è sempre in bocca al lupo e Montemarano è un popolo.